Vai tranquilla e più loro si accaniranno contro di te tu devi ignorare questa cosa e vai avanti sempre per la tua strada e rifiusi ASMR ciao cosa è successo? no non devi piangere tesoro perché? ma cos'è successo? no non essere così triste ascolta me ne vuoi parlare cos'è successo? no non fare così dimmi cos'è successo ascolta tesoro se non mi dici cos'è successo come posso aiutarti? mi dire stai tranquilla tranquilla ma è così grave la cosa ascolta calma 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 tesoro calma rilassati rilassati su dai asciugati le lacrime dai ti prego cosa cosa è successo? cosa è successo? dimmi ok? adesso ti calmi e mi racconti bene ti sei un po' calmata ok? ok? io ti ascolto ok? dimmi cosa è successo ok? oh mi dispiace e purtroppo certe persone non ti sanno comprendere credono di essere migliori di te credono di essere migliori di te lo so lo so tu devi essere forte e vedrai che chi fa del male a te prima o poi tutto torna indietro con i giusti tempi io penso che il calma esiste sai? tutto torna si devi solo avere pazienza ma tutto torna no 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 non gli devi dare soddisfazione più vuoi vedere che stai male e più loro si accaniranno contro di te quindi l'unica arma che puoi usare è indifferenza no no lo so lo so che ti dà fastidio vedere certe cose e allora tu devi girare la tua mente perché la mente ragiona così quello che tu vedi è lo specchio di quello che in realtà vorresti fare dei tuoi pensieri delle tue idee lo vedi risvecchiato nelle altre persone nelle cose in tutto quello che ti sta a tonno e allora cosa ti dico? devi essere forte quindi devi cominciare a rivoltare il tuo pensiero in un'altra forma esatto lo devi citare il tuo pensiero lo devi citare in un'altra forma e vedrai che tutto si risolverà sì allora le persone che vedi che dici che qua che là in realtà lo fanno anche perché perché hanno dei problemi a casa sicuramente hanno dei problemi no non devi credere loro ti fanno vedere il bello e basta ma il brutto non te lo dicono è quello il bello che il brutto non te lo dicono sembrano dei padri eterni padri eterni capisci? ma in realtà hanno più problemi di te quindi devi essere forte si vedi certe cose che non ti vanno bene e ricorda che sono tutti pensieri che hai nella testa o tu devi essere indifferente ignora queste cose lo so sai anche a me capita delle volte però sono periodi sai sono periodi se ti sembra che delle persone ce l'abbiano con te tu devi fare in modo di superare questo periodo ignorare quello che ti dicono e soprattutto una regola fondamentale non devi mai cedere non devi mai dare soddisfazione perché i primi a cedere saranno loro ricordati non devi non devi fiderci se ti fanno pressione tu devi ignorare questa cosa perché loro aspettano solo un gesto brutto da parte tua per avere per avere l'alibi di poter fare di te quello che vogliono ma tu devi resistere e non dargli questa soddisfazione devi ignorare dici sì 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 lo faccio lo faccio lo faccio e poi ti fai quello che vuoi e vivi lo stesso si vivi lo stesso non ti devi preoccupare adesso adesso come ti senti dopo i miei consigli ti senti un po' meglio devi devi tirarti su forza la gente è cattiva purtroppo e aspetta solo il momento per affossarti ma tu devi essere forte e superare questi momenti devi mandare giù tanti rospi però alla fine ne esci illesa è così che devi fare e soprattutto non farti mai abbassare la tua autostima perché le energie ti servono per andare avanti se tu te la fai a passare non vai più da nessuna parte quindi devi essere sempre splendente fare vedere sempre il sorriso anche quando cercano di togliertelo perché alla fine quando una persona ti vede sorridere e l'altra persona è felice cerca di fare di tutto per attirarti nella sua negatività e quindi tu non devi permetterglielo e allora vedrai che questa persona si arrabbierà ancora di più e finirà nella sua collera e tu dico proprio tu sarà inattaccabile perché è questo che devi essere tu inattaccabile sotto tutti gli aspetti della tua vita della tua vita oh così mi piace un bel sorriso e vai avanti sempre per la tua strada non permettere a nessuno di bloccare di bloccare la tua ascensione perché è la sola tua ragione perché sei venuto in questa terra e la devi portare avanti senza che nessuna nessuna persona nessuna cosa nessuna situazione disintegri questa tua forza interiore per la tua per la tua per la tua per la tua l'inferma per la tua